Il mestiere di genitore è indubbiamente il mestiere più difficile del mondo, se non altro per tutte le cose collaterali che i giovani genitori di oggi, quasi sempre entrambi i lavoratori, devono fronteggiare con l'arrivo di un pargolo. Per chi non avendo addentellati familiari a supporto, leggi nonni tuttofare, che ti affiancano nelle incombenze quotidiane, disporre di un orario elastico e più allungato delle strutture comunali e private di nido e di infanzia sarebbe come la manna dal cielo. Ora, per tutte le competenze del Comune di Fano, grazie ad un bando messo a disposizione dal MIUR, che mette a disposizione fondi per allungare con attività ludico-ricreative gli orari delle strutture sul territorio, comprese in percentuale anche quelle private e quindi a supporto di tutti i genitori sopracitati. Grazie ai fondi che il Comune di Fano ha ottenuto dalla legge 06, quindi dal MIUR, abbiamo la possibilità di fare una sperimentazione importante che coinvolgerà quasi 800 famiglie potenzialmente. Saremo cioè nelle condizioni per il prossimo anno scolastico, il 2019-2020, di offrire un servizio di prolungamento orario per tutte le 13 strutture comunali, quindi nidi, sezioni di raccordo e scuole dell'infanzia. Questo vorrà dire poter usufruire, per chi ne farà richiesta, di due ore aggiuntive di servizio alla fine di quello tradizionale. La cosa significativa, proprio perché è una sperimentazione, è che il servizio verrà offerto gratuitamente, quindi è una bella notizia, io credo, per tantissime famiglie, soprattutto quelle più giovani. Questo proprio per poter in qualche modo misurare, senza impedimenti di carattere diciamo economico, quello che può essere il bisogno, oltre che le aspettative, delle famiglie rispetto agli orari di apertura dei nostri servizi per l'infanzia. Una sperimentazione che se funzionerà, ovviamente il Comune sarà chiamato a mantenere. Le domande per poter aderire a questa estensione di orario vanno presentate a maggio, durante l'iscrizione dei bambini per l'anno scolastico 2019-2020 e inizia a settembre prossimo. Le domande però potranno essere effettuate anche per quei genitori che hanno già iscritto i propri figli a gennaio 2019.